Arriverà a Borgomanero la centottesima edizione del Gran Piemonte, la gara ciclistica in programma il prossimo 10 ottobre. Il Via da Valdengo. Saranno 24 le squadre in gara sui 182 chilometri di corsa, impreziosita dalla partecipazione di 15 UC World Teams in quello che sarà l'ultimo step di avvicinamento prima dell'ultima classica monumento dell'anno, il Lombardia. Grazie a tutti.